Ciao a tutti e a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Io sono Marika, in arte della postmoderna, e oggi ci aggiorniamo sulle letture. Cercherò di andare veloce perché i libri di cui vi devo parlare sono abbastanza. Visto che la settimana prima della laurea ero parecchio su di giri, ho letto un sacco per calmarmi. Sono riuscita a leggere quattro titoli, in realtà cinque, ma di uno ve ne parlerò meglio in un'altra occasione. Qui lo cito e basta. Ma andiamo con ordine. Primo titolo che ho letto, cioè l'ultima volta ci siamo lasciati con esercizi di fiducia, quindi subito dopo ho letto Ethan Fromm. A parentesi, naturalmente, fatemi sapere se avete letto uno o più di questi titoli e cosa ne pensate, perché la vostra opinione è davvero sempre arricchente. Mi piace leggervi e rispondervi. Dunque, dopo esercizi di fiducia, sono passata a un classicone, anzi un piccolo classico, della letteratura americana, Ethan Fromm di Edith Wharton, che ho letto, insieme al gruppo di lettura di Gaetano, altre americhe che saluto. Dunque, Ethan Fromm, anzi, Edith Wharton. Io di Edith Wharton non ho letto nient'altro, ho in libreria l'età dell'innocenza, ma aspetto che mi chiami. Ethan Fromm l'ho letto in curiosità dall'atmosfere completamente diverse, che sembrano davvero completamente diverse da quelle di l'età dell'innocenza e che, appunto, entravano maggiormente in contatto con la mia sensibilità. Ethan Fromm è, come viene definito dalla sinossi in quarta di copertina, una tragedia romantica. Una tragedia romantica come ne abbiamo lette tante, sia contemporanee sia classiche. Almeno questa è stata la mia impressione finché non sono arrivata a leggere l'ultimo atto. Ma andiamo con ordine. Allora, io ho trovato la prosa di Edith Wharton godibilissima, scorrevolissima, che significa tutto e niente, ma davvero molto leggera, si può dire. È stata la mia impressione. È a discapito dell'atmosfera, a discapito della tragedia annunciata fin dall'inizio. L'atmosfera è gelida, in sintonia appunto con il paesaggio invernale. E la tragedia è annunciata fin dal primissimo capitolo. Mi è piaciuto ritrovare anche una tecnica che vedo spesso utilizzata dagli scrittori e dalle scrittrici americane classiche, ovvero quella di far narrare la storia da un personaggio esterno alla vicenda. Quindi per stile e per questa tecnica narrativa mi sono ritrovata subito in sintonia, mi sono sentita subito a casa nella mia cara letteratura americana. Però vi dico la sincera verità, fino alla fine, cioè fino alla lettura dell'ultimo atto, che per appunto lo storytelling occidentale è il più significativo, ho trovato la storia, cioè trovavo la storia godibile, interessante, si subodorava già palese l'aria di tragedia, perché è veramente una tragedia romantica annunciata dal primissimo capitolo, dall'impostazione che prende la storia, dall'atmosfera che l'autrice crea, quindi insomma mi aspettavo una tragedia. Non posso dire di essere rimasta shock because, perché insomma me lo aspettavo, cioè sì veramente everything is totally connected, cioè tutto era veramente totally connected, tutto era totalmente connesso, per cui non è stato uno shock because l'ultimo atto. La tragedia me l'aspettavo, mi aspettavo una tragedia romantica, ma non mi aspettavo che fosse così particolare, che fosse così geniale anche, oltre che molto molto personale, perché è ancorata al vissuto dell'autrice. È una tragedia, quella dell'ultimo atto, che ho trovato a livello narrativo, senza andare appunto a toccare l'esperienza personale dell'autrice, molto azzeccata per la storia, il che rende appunto la storia unica. È un testo brevissimo, se avete letto magari L'età dell'innocenza di Edith Wharton, recuperate anche questo, a me non piace usare il termine recuperare, però insomma è una chiacchierata tranquilla, così ci intendiamo, perché è valido, è un testo particolare, molto breve, e unico, a mio parere. Poi, un testo che invece non mi ha soddisfatto appieno, anzi per niente, è Carneviva di Merit Tears, edito Sur, nel 2020, 2019, 2018, no, qualche anno fa, se non sbaglio, 2017, 2018. Carneviva racconta la storia di questa donna, giovanissima, disordinatissima, che lavora nella ristorazione americana statunitense. Ora, le tematiche mi interessavano, interessava anche la voce, scoprire la voce di questa protagonista, che conduce una vita disordinata, sotto tutti i punti di vista, a ogni livello, lavorativo, personale, sessuale, sentimentale, quant'altro. Mi piace essere in contatto con personaggi e personaggi scomodi e scomodi, mi piace scoprire le voci di personaggi e personaggi particolari, e con un punto di vista di chi, cioè il punto di vista di chi sta al margine della società. Però, lo stile dell'autrice l'ho trovato veramente scialbo. Il punto di vista poco autentico, e l'autenticità è un elemento che io cerco sempre in letteratura, perché la tecnica si può migliorare, si può migliorare su tantissimi fronti, ma se manca lo sguardo autentico, io non riesco a chiudere un occhio, non riesco neanche ad accettare uno stile perfetto, cosa che non è, comunque, nel senso che il punto di vista è alla prima persona, ma è una prima persona che sì, ok, favorisce l'immedesimazione, perché, cioè, altrimenti non si chiamerebbe prima persona, la prima persona rispetto alla terza, favorisce l'immedesimazione, un'immedesimazione più, appunto, scusate il gioco di parole, immediata e immersiva, è anche autentica, però se la voce della persona narrante non è autentica, non è vivace, non è viva più che vivace, non c'è niente, non c'è niente da narrare, non c'è niente di positivo da valutare, l'unica cosa interessante che riconosco, però interessante forse soltanto per me, è la panoramica realistica sulla bassa ristorazione americana statunitense, in quel senso si dà voce a una pluralità di personaggi, ma che ho trovato piatti, che ho trovato scialbi, stereotipati, oltre al fatto che è un romanzo molto, molto, molto ripetitivo, non tanto nelle tematiche, che vabbè, ok, me lo aspettavo, va benissimo, quanto nelle dinamiche narrative, non ho trovato alcuna tensione che mi spingesse a continuare, se non il fatto che sia un libro relativamente breve, poco più di 200 pagine. Un testo che invece mi ha convinta molto, ma io qui lo dico, qui lo confermo, sono di parte, con Ottessa Moshfegh, di cui ho letto di recente, Il piano di riposo e oblio. Io credo che se una scrittrice, uno scrittore, riesce a rendere interessante e coinvolgente la storia di una tizia che dorme sedata da psicofarmaci vari, sappia scrivere. Se questo non è scrivere, se questo, se convincere, se rendere interessante ciò che sulla carta, o in un'idea di base, non lo è, questo non è scrivere, se questo non è saper scrivere, io non so cosa sia. Veramente, cioè potrei chiuderla qui la mia opinione sul piano di riposo e oblio, perché tutto si riduce, tutto si riconduce a questa affermazione, perché la storia è la storia di una tizia che dorme, sedata da psicofarmaci che le prescrive una psicoterapeuta che ha più problemi della paziente. Evidentemente, è evidente anche che Ottessa Moshfeg, Ottessa Moshfeg, scusate, la protagonista di Ottessa Moshfeg, in mio anno di riposo e oblio, soffra di depressione. È un testo che viene definito sprezzante, sprezzante lo è di sicuro, mi trovo molto d'accordo con questa caratteristica, soprattutto per descrivere la protagonista. È una protagonista scomodissima, è una protagonista privilegiata, che ha il privilegio della ricchezza, ha il privilegio della bellezza, soprattutto, quindi è veramente sprezzante della realtà, della vita, di tutto e tutti, dei suoi amici, delle persone che le stanno accanto, che cercano di rimanerle accanto. È una privilegiata che soffre di depressione. Io credo che l'elemento provocatorio, veramente provocatorio, non siano tanto le considerazioni, le singole considerazioni che la protagonista fa nel corso del libro, che si sono politicamente scorrette, più che altro per i termini che utilizza, nel senso che le considerazioni che fa sono in linea con il suo carattere, con il suo personaggio, e con il fatto anche che soffra di un disturbo depressivo. Per cui, sì, sono provocatorie, ma fino a un certo punto, sono provocatorie, ok, nell'uso di termini politicamente scorretti, che lei utilizza, consapevole del proprio privilegio, e consapevole del fatto di utilizzarlo, nel modo peggiore possibile, ma secondo me, l'elemento davvero provocatorio, è l'idea di fondo, cioè il fatto che lei, la protagonista, abbia condotto quest'anno di riposo e oblio, abbia dormito sostanzialmente, per un anno, perché poteva permetterselo, perché non doveva preoccuparsi di mandare avanti la propria vita, a livello economico, a livello sentimentale, a vari livelli, perché sapeva di essere una privilegiata, sapeva di avere il privilegio di poter star ferma per un anno. Questa è l'idea provocatoria, infatti c'è all'inizio del libro, la sua amica, che appunto le dice, io non potrei permettermi di dormire per un anno, e la protagonista le risponde, cioè le risponde o pensa, non ricordo esattamente, che lei invece può permetterselo, cioè lei non nega mai il privilegio che ha, lo riconosce, e decide di sfruttarlo per stare meglio. Poi c'è anche una questione che io mi sono posta, ovvero se lei, dopo quest'anno di riposo e obbligo, che ha condotto, stia veramente meglio o peggio. Però forse non è neanche il punto del libro, il punto è quest'anno di riposo e obbligo, che una volta concluso si conclude pure il romanzo, davvero riuscito, a mio parere. La prosa di Ottessa Moshfeg, risulta più curata e più raffinata, secondo me, in La morte in mano, il suo romanzo successivo, il suo libro successivo, ha il mio anno di riposo e obbligo, però secondo me sa scrivere, sa scrivere. Quindi sono contenta di averlo letto. Fatemi sapere se la pensate come me. Poi ho letto il nuovo libro di El caro Don, di Don Di Lillo, Il silenzio. Molto, molto, molto breve, si legge in una giornata. Il silenzio è ambientato nel 2022, e il mondo va in un blackout globale, totale. Cosa posso dire? È un libro interessante, è uno di quei libri più interessanti che belli, a mio parere. Di Don Di Lillo ho letto, soltanto come sapete, americana, il suo primo romanzo e la raccolta dei racconti d'Angelo e Smeralda. Credo che ormai, anche se non ho letto ancora i suoi capolavori, credo che ormai Don Di Lillo abbia già detto tutto ciò che aveva da dire, ha sviluppato tutto ciò che c'era da sviluppare, tutto ciò che aveva da sviscerare. Mi piace questo suo ritorno alla narrativa, alla narrativa breve. Secondo me anche la lunghezza, o meglio la brevità, è azzeccata per il romanzo, o meglio per la storia che voleva raccontare, per anche il messaggio che voleva sviluppare, che si avviluppa bene alla trama. Non voglio svelarvi troppo, anche perché è un libro breve, è un libro secondo me godibile, per chi ama l'autore. Il messaggio si avviluppa bene alla storia e ai personaggi particolari che sono in tutto 5 e che si ritrovano a guardare la partita del Super Bowl del 2022, evento quasi di portata religiosa per gli Stati Uniti d'America. Ma non è ciò che Don De Lillo si dilunga in altri suoi romanzi, i capolavori sullo sport, sugli eventi sportivi. Qui è forse soltanto un pretesto, anche perché tutto va in blackout, quindi non c'è molto da sviluppare. C'è soltanto questo personaggio che quando la tecnologia va in blackout, quando la televisione si spegne, commenta lui stesso la partita, immagina che la partita stia continuando, immagina di guardare la partita e diventa il telecronista. Don De Lillo è molto bravo, molto capace nel creare sti paretti angoscianti e disturbanti e a condurre il lettore nelle sue considerazioni anche abbastanza astratte. Insomma, io l'ho trovato un testo godibile. Secondo me, ripeto, Don De Lillo ci ha già dato i suoi capolavori che io non ho ancora letto, shame on me e che questo sia, penso che questo sia soltanto un testo godibile. A chi piace Don De Lillo probabilmente questo libro piacerà, a chi non apprezza la prosa, lo stile, le tematiche di Don De Lillo anche questo libro probabilmente non farà impazzire. io ve lo consiglio perché è breve, è breve e è un libro più interessante che bello. Rimane godibile ma più interessante che bello. Ha senso? Spero. Poi, vado velocemente sulla bellezza di Aliyah White, le anzi, vi dico che non lo commento perché faremo io e Sofia una live di discussione a fine mese per Mondo Fantascienza infatti la bellezza di Aliyah White è il romanzo scelto da me e Sofia per Mondo Fantascienza di febbraio avete ancora qualche giorno qualche settimana per leggerlo non so se la live sarà a fine mese a fine febbraio inizio marzo io di Aliyah White ho letto e vi ho stra stra consigliato l'arrivo delle missive in cui messaggio politico e femminista si fonde benissimo con con la trama questo questo testo invece sempre molto breve di Aliyah White è più denso è più denso di concetti infatti io credo che rileggerò qualche passaggio prima della live in modo da sciogliere bene i nodi del del discorso e della poetica di Aliyah White che comunque a me a me piace molto è un'attrice a dir poco weird a dir poco fuori dagli schemi e totalmente fuori di testa soprattutto nelle sue associazioni primamentali poi narrative quindi vi aspettiamo io Sofia in live tra qualche giorno vi annunceremo la data qui su youtube e anche su instagram mi raccomando seguiteci seguite il progetto e questo era il video ci vediamo al al prossimo ciao